volevo sottoporti una sfida potresti per cortesia raccontarci in un minuto romanzo criminale? allora, romanzo criminale in un minuto però la prima volta che l'ho visto ho riconosciuto grande familiarità perchè io quando uscivo di casa, quando ero piccolo c'erano loro allora, in un minuto romanzo criminale hai il tuo cronometro posso usare il turpiloquio? guarda, è difficile che tu non lo usi ma come è difficile? che sia io a limitarti sono uno dei pochi romani che non lo fanno va bene, ho qua il cronometro vado? dimmi quando però e ti giuro che non è preparata lui non lo sapeva, quindi se è capace è pure a merito suo, vai allora c'è la eparginazione a Roma d'anni 70 c'è il ribanese, il ribanese, il ribanese lo devi rispettare, poi c'è stato quell'altro, non mi ricordo come si chiama se spara o no, si spara una scelta ribida una riva a 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 riva te saluto, ciao terribile a certo punto arrivano quell'artipo a due stagione a due stagione a due stagione il ribanese lo devi rispettare poi c'è un ruolo la bomba a strage di Bologna fine 36 36 36 36 36 io mi vergogno mi faccio trascinare mi faccio trascinare in queste cose chiedo scusa noi siamo sportini non ti preoccupare Sempre trovo, poi un caso, un caso.